Ed eccoci qua con la seconda puntata del Gamer Centipede Allora, abbiamo bisogno di andare avanti Perché l'ultima volta ero messo veramente male Allora, questo sarebbe il nostro ultimo salvataggio Ma non sono sicuro di voler rientrare di nuovo là dentro Però, quello che stavo guardando è se per caso avessi qualcosa da aumentare Perché l'altra volta ho aumentato solamente il Dire Flame come tecnica E non ho guardato se dovevo aumentare qualcos'altro Allora E se cambiassimo compegno? Eh sì, mi sa che per questo combattimento ho bisogno di lei Voglio provare un'ultima volta a segare quegli stronzissimi che ci sono qua dentro Se non mi funziona vado dall'altra parte come permesso Anche perché non voglio farvi vedere un combattimento per tutta la mezz'ora Su, su Sì, 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 l'acqua si è alzata Eravate intrappolati dentro E sto cazzo Esatto, ciao Dire Flame Dire Flame I need healing I need healing Spirit Beato I need healing Allora, andate decisamente meglio delle altre volte Solo che non mi è molto familiare combattere così Con il C da sistemare eccetera Però, visto che è andata meglio Facciamo un ultimo sententativo Ok Salviamo Si parte con Dire Flame Vediamo di tagliare la cutscene il più possibile Ciao Addirittura Fantastico Spirit Beato 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 Niente Riesco a proseguire con il combattimento Ma non ho sufficienza da Da farcela Allora Faus and Cazzo E andiamo a vedere cosa ci combina qui. Spero di poter entrare anche dall'altra parte, più avanti, di non aver perso un pezzo. Non credo, perché sembrava collegato proprio la parte principale della partita, alla storia principale. Allora, vediamo se siamo ancora bambini. Che palle. Sì, cazzo, dovrebbe essere in una città che è morta. Chi cazzo sei? Che cazzo è sto Guardian? Sento odore di boss. Dio porco! Immune, fantastico! Merda! Merda! Ma gli sto facendo qualcosa, almeno. Ok. Ciao! Ah! 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 Lasciamo stare Siamo tornati qui Non c'è stato l'autosalvataggio Mi scuso Taglieremo questa parte Ok Questa puntata sarà interamente Caricare, ricaricare, morire Però aspetta Iniziamo subito Direi No Potremmo iniziare con una tecnica diversa Per esempio Golden Star Lo metterei a posto di Heavenly Wave Potremmo iniziare con quella Vediamo se ce la facciamo Sì, sì Sì, il guardiano sta arrivando Sto cazzo Eccetera, eccetera No Esatto Non le ha fatto una sede È un alleato Wow wow Merda Resisti Spirits Spirit Thief I need healing I see Spirit Thief Dai cazzo Merda Non devo usare il focus così tanto Probabilmente Questo era decisamente Sì, potremmo iniziare con il Oh Oh I need healing Ah Cazzo non riesco a muovermi Ah Non è riuscito comunque Quindi quello è un attacco Oh Ah Non appazzatevi un colpo solo subito dopo Niente ragazzi Mi sa che lascerò questa cosa a fede Perché veramente Non so se riuscirò a passare Vediamo se riesco a fare qualcosa di decente No Dire Flame È immuna quella Merda Merda Oh Focus Ok Qua non c'è nulla Eh sì me ne sono accorto Il problema è che ho bisogno del focus per Ah Dai Dai Forse con me Oh Ciao No Ciao Anche Oh 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 Ma no! Malissimo. Teniamo la bada. Perché con questa poca vita? Merda. Ma ha fatto lui quello che volevo fare a lui. Quello che volevo fare io a lui. Merda. 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 Vediamo se ce la facciamo. Il combattimento più buonioso della storia. Per chi guarda, immagino. Merda. 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 Sarà da arrivare a metà o sarà da arrivare di più? Chi lo sa? Sì. Sì. Sì... Sì. Sì. Bisogna proprio arrivare alla fine? Oh, ho bisogno di curare! credo di poter riuscire a parare a quella bolla lì ma il problema è che non so mai se inizierà con la bolla o con l'attacco caricato l'attacco caricato ovviamente romperebbe la mia difesa e sarebbero perfino cazzi quello non l'ho capito aveva la barriera, lo stavo attaccando perché non mi ha dato il colpo? li avevo fatto pure gli avevo fatto pure la finta è stata veramente bastarda quella cosa lì dai che ce la possiamo fare sì che ce l'abbiamo fatta genzilla splendida mio dio mi ero dimenticato il titolo quindi no simpaticone non siamo dei seguaci di bene varie cose ok sì 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 quindi abbiamo la gemma cazzate perché mi vuoi servire? ah quindi è comandato da un più grande potere o dal destino a qualcosa a servirci quindi i nostri destini sono collegati il mio percorso praticamente legato all'amuleto che mi è stato rubato eccetera eccetera sono all'altro divertimento come compagna ah wildflower she's my anchor to your world quindi wildflower è la bambina che poi è l'ancora per questo demone qui ok la proteggiamo da dai pericoli ah sono due entità separate ma una fada ancora per l'altro e il demone protegge anche la bambina perfetto ok possiamo andare no ok quindi wildflower sarà quella che ci seguirà ok ok abbiamo una pietra che serve a qualcosa perfetto inferior scholar gem inscrutable power source quella è quella è ciò che abbiamo e abbiamo una bambina col demone come companion figata mi pare di ricordare nella volta precedente che fosse proprio e abbiamo ahaha il passaggio perché siamo ricordati la password ovviamente una trappola che domande ci curiamo tanto abbiamo uh tragedia landing questa è quella della diga che ha è stata costruita senza che fossero informati i membri del villaggio che avrebbe poi praticamente sommerso appunto il villaggio ma io mi chiedo ci sarà un ci sarà immagino anche una fonte di focus perché quella l'ho persa completamente oh qua sotto c'è qualcosa tra cui la gemma è questa la gemma ma facciamo for me to close the down again the brains will flood fairly quickly I'm no longer able to reach do nothing per ora non facciamo nulla perché così permetto a chi giocherà dopo di me di completare la missione dei bambini e volendo di andare a fare l'altro combattimento non sono riuscito a finire quindi siamo arrivati ai controlli della diga e ora salviamo anche noi sul sapataggio vediamo se riusciamo a fare ancora qualcosa ho pochi minuti purtroppo 5 minuti scarsi c'è un'altra fonte qua ah sì c'era anche una fonte di C era però se non erro dall'altra parte del ponte vado a recuperare quello non di C pardon di focus e vado a recuperare la persona che è dei bambini faccio io quella missione dei bambini sembra il minimo ah buono oltretutto non sono andato a vedere cosa fanno queste gemme forse sarebbe stato il caso e va bene e qua ci dovrebbe essere la fonte di focus se non erro eccola qua perfetto andiamo in città che è di qui ok ok Oh, abbiamo trovato anche Silc Fox. Ok, siamo alleati quindi. No, infatti io non mi fido di te. Ok, sì, stiamo cercando proprio lui. Ok. Gli ho detto che è il maestro, non ho voluto rivelare che è anche il grande stratega. Oh, quindi praticamente dobbiamo recuperare una wind map. E pare che ce l'abbia questo. Per ora non ci seguirà. Quindi ci ha dato semplicemente l'indicazione per non rimarrere nel gruppo. Ci vedremo nella città imperiale. Perfetto. Lascio questa cosa a chi arriverà dopo di me. E devo invece andare a prendere... Sì, ne abbiamo ancora uno, lo so. Domanda. Come si chiamava? Allora. Drowned Orphans, esatto. Kindly Yushan. Ah, erano la salda a te. Quindi... È là che bisogna andare per prima. Cosa gli faremo fare? Lo uccideremo? Lo lasceremo in vita? In realtà, questo incontro con Silfox ha... Completamente drenato l'ultimo tempo che avevo. E quindi lascerò al buon Fede decidere cosa fare. Gli auguro buona fortuna. Questa è una scelta relativamente facile, in realtà. E gli auguro buona fortuna per l'altro combattimento se lo vorrà fare. Altrimenti c'è da recuperare la mappa dei venti. Io vi ringrazio per l'attenzione e tutto quanto. Siete stati gentilissimi. E vi auguro una buona giornata. E alla settimana prossima con qualcun altro che continuerà questa storia. Ciao a tutti da Gamer Centipede. Ciao ciao.